La sindaca di Roma, Virginia Raggi, si è presentata questa mattina davanti lo stabile di Via Napoleone III all'esquilino occupato da Casa Pound per consegnare il verbale che notifica come abusiva la scritta Casa Pound che campeggia all'esterno dell'edificio. O la rimuovono entro dieci giorni oppure lo faremo noi, ha spiegato la sindaca, che dopo aver atteso alcuni minuti che qualcuno venisse a ritirare l'atto, si è allontanata. Un delegato di Casa Pound è quindi sceso a ritirare l'atto della polizia di Roma Capitale. Il verbale impone la rimozione della scritta in stile marmoreo e con caratteri del ventennio e una sanzione amministrativa di circa 300 euro. Per il prossimo giubileo nel 2025 Roma avrà il ponte dei congressi. L'annuncio è arrivato stamani durante la seduta della commissione capitolina lavori pubblici. Il capodipartimento Roberto Botta ha fatto il punto sullo stato di attuazione dell'opera che completerà un grande anello viario costituito dal viadotto della Magliana, dal ponte della Magliana e dalla Roma fiumicino che a sua volta si riconnetterà al ponte dei congressi chiudendo così il cerchio. Per completare l'opera ci vorranno cinque anni di lavori. Nelle notti del 19 e del 22 luglio scorso un gruppo di ragazzi aveva danneggiato la scuola elementare di Passo Scuro a Fiumicino, imbrattando le pareti delle aule e rompendo i vetri di alcune finestre della palestra. La bravata però non è rimasta impunita. Dopo alcune indagini i carabinieri sono infatti riusciti a risalire all'identità di 11 minorenni di età compresa tra i 15 e i 17 anni, denunciandoli per il reato di danneggiamento aggravato. L'amore è l'unica scelta perché odiare significa sprecare la vita. Con questo messaggio l'artista beninese Angelique Kijot ha trasformato ieri sera la cavea dell'auditorium Parco della Musica di Roma in Mamma Africa. L'artista africana ha regalato al pubblico una serata di pura energia con la cantante pronta a ballare tra la folla e gli spettatori a corsi sul palco per scatenarsi al suono di tamburi e danze africane. Kijot è stata definita da Time Magazine come la prima diva dell'Africa e il Guardian l'ha inserita tra le 100 donne più stimolanti del mondo.